Si chiama Progetto Life 3H, trasporto pubblico a idrogeno. Nel complesso prevede la messa su strada di sei autobus, di cui due in Abruzzo per la tratta Avezzano-Vindoli, tre stazioni di rifornimento, di cui una nella nostra regione, presso l'interporto di Avezzano. Questa mattina la presentazione in conferenza stampa alla presenza del Presidente della Giunta Regionale Marco Marsiglio, della Dirigente Regionale Iris Flacco e del Direttore della Società Chimica Bussi Luigi Mucci. Presidente, intanto un progetto importante per portare la mobilità a idrogeno nel centro Italia, il progetto di cui appunto la Regione Abruzzo è coordinatrice, è capofila. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è prendere l'idrogeno che oggi viene prodotto da diversi siti, in particolare in Abruzzo dalla chimica Bussi e che oggi viene disperso e buttato, recuperarlo, quindi applicare un elemento base dell'economia circolare. Questo idrogeno viene purificato, stoccato e poi distribuito per alimentare autobus a idrogeno che in Abruzzo serviranno la zona degli impianti sciistici degli altipiani delle Rocche, quindi nei comuni di Ovindoli, Rocca di Mezza, Rocca di Cambio, peraltro nel cuore del parco regionale Velino Sirente, dove quindi facciamo mobilità a impatto zero. L'Abruzzo è capofila di un progetto che riguarda altre due regioni, l'Umbria con la città di Terni e le acciaierie, Civitavecchia con l'autorità portuale, dove tutta la mobilità interna al porto verrà fatta a impatto zero con questi autobus a idrogeno. Si cambia passo anche nel rapporto con l'Europa, ricordo che ormai da anni l'Abruzzo non guidava progetti europei e questo è anche un sinistomatico di una riacquisizione di autorevolezza e credibilità della nostra regione anche nel rapporto con la Commissione europea. Diciamo che è un motivo per questo di grande orgoglio, se vogliamo presentare una nuova frontiera, quali sono i tempi di realizzazione? A fine del 2023 dovremmo cominciare a vedere gli autobus circolari, sono quattro anni il massimo della durata del progetto. Io spero che con la stessa velocità e determinazione con la quale abbiamo messo in campo questo progetto si possa anche accelerare magari qualcuna di queste fasi. Naturalmente non possiamo farlo da soli, c'è bisogno delle risorse che oggi sono previste dall'Europa e non solo dal piano nazionale di recupero e di resilienza. Ecco appunto, l'investimento pari sono valorato a 6,3 milioni di euro, da chi sarà finanziato? Per oltre la metà direttamente dalla Commissione e poi ci sono i partner che mettono del proprio per fare il caso della Chimica Busi. Questo lavoro di purificazione, recupero e stoccaggio dell'idrogeno viene fatto a loro spese, quindi è il contributo che introducono nel progetto. Grazie a tutti.